Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Master King e benvenuto in questo nuovissimo video. Allora, siamo qui in un video vlog e anzitutto volevo parlarvi di qualche aggiornamento sul canale, come appunto sto cercando di mantenere le promesse che vi ho fatto di cercare di caricare un video ogni giorno, certo qualche volta non riesco a caricarli, però almeno nel mio possibile cerco sempre di caricarveli. Allora, poi un'altra cosa che voglio dire è che comunque sto cercando di portarvi molte più serie possibili e poi inoltre sulla mia pagina Facebook ho scritto un post in cui vi chiedevo di scrivere qualche domanda, che cosa volete sapere, appunto cercherò di rispondere nel prossimo video vlog. Allora, quest'oggi volevo rispondere a una domanda un po' particolare che mi fa T1HD sotto il video della parte strana di YouTube. Allora, la domanda che mi fa è se io ho mai avuto qualche esperienza con il paranormale. Probabilmente sì, mi caviarlo diciamo qualche anno fa, perché probabilmente io vado a scout, faccio scout e insieme a me c'è un altro YouTuber che lo fa, ovvero Academy of Games. e probabilmente ci capitò che una di queste notti in uno dei campi che abbiamo fatto insieme e siamo appunto lì insieme a tutte le altre ragazze nel bosco a dormire, a mangiare, a divertirsi, a divertirci insieme. Allora, una di queste notti, e allora, Academy of Games, e si sveglia giustamente perché di andare al bagno. Allora, visto che aveva un po' paura di andare da solo, allora mi chiama e mi chiede appunto di andare insieme a lui, magari di accompagnare, magari per fare un attimo di luce. E probabilmente appunto io lo accompagno e improvvisamente appunto noi due vediamo pesa su un albero e diciamo una bambola, diciamo pure un po' malmessa, no? E purtroppo appunto non siamo riusciti a fargli la foto, che appunto essendo scout non potevamo portarci il telefono dietro e quindi non potevamo fargli la foto. Però comunque qui cercherò di mettere una foto, diciamo sì, ma mai trovo se trovo qualcosa su internet. E vabbè, diciamo noi due spaventate, e torniamo subito in tenda, infatti Davide non va neanche in bagno quella notte, e probabilmente ci cerchiamo di dormire, tutte e due spaventatissime. Però comunque il giorno dopo ci convincemo che qualcuno ci volesse fare qualche cattivo scherzo. Però il caso strano ha voluto che nessuno avesse con sé una bambola, quindi nessuno se la fosse portata dietro, e da lì sull'albero non c'era più quella bambola. E quindi, diciamo, lì per lì è finita questa storia. E poi qualche giorno successivo, sempre a Carolina Games, decide quella notte di dover andare al bagno. E quindi, nuovamente, io lo raccompagno, e quindi sempre per fargli luce. Però quella notte, c'è accaduto una cosa leggermente diversa. Invece di trovare tutta la bambola appesa allo stesso albero, troverò magari la testa appesa su un albero, un braccio appeso su un altro, quindi i vari pei, i vari pezzi di bambola appesi su vari albere. E quindi, da lì proprio ci spaventammo definitivamente. E appunto, a Carolina Games decide, a prescindere di non uscire più di notte per andare al bagno. E quindi, diciamo, questa sarà più o meno la mia storia, la mia esperienza paranormale in quel campo scout. E spero che vi sia piaciuta. Se è così, comunque, mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su tutti, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti! Ciao a tutti!